E' iniziata la stagione estiva, si esce di più, si vive di più il centro e non solo e come ogni anno e come in ogni città iniziano dei problemi di convivenza tra residenti ed esercizi commerciali. Noi cerchiamo di superare questi problemi di convivenza ascoltando entrambe le parti e soprattutto mettendo in atto un sistema di misurazione acustica che sia ottimale per garantire l'uno da accuse eccessive e l'altro da una rumorosità eccessiva. Diciamo che le misurazioni e i numeri ci devono aiutare in questo per avere un dato oggettivo. La problematica che ad oggi abbiamo riscontrato è affidarci ad ARPAM che è dotata di tecnici di grandissima professionalità, indiscutibile professionalità, purtroppo numero molto limitato. C'è un tecnico per ogni provincia. Ora per sopperire a questo calo di tecnici abbiamo studiato bene la normativa nazionale e regionale e stiamo lavorando per una convenzione con l'Università Politecnica delle Marche a cui daremo l'incarico. Siamo il primo comune nella regione Marche e non so in Italia quanti ce ne sono a fornire questo servizio. Quindi noi a differenza degli altri comuni non ci fermiamo ad ARPAM che purtroppo è sovraccarica di lavoro e non riesce a darci il servizio di cui avremo bisogno per garantire la serenità ai nostri cittadini e ai nostri esercizi commerciali, ma facciamo una convenzione prima nella regione con l'Università Politecnica delle Marche. Ma non ci fermiamo qui perché la convenzione prevederà anche che saranno formati, ci vorranno due anni di tempo, dei tecnici interni all'amministrazione comunale. Quindi siamo contenti di dare questa informazione perché noi puntiamo sulla tecnica, sulla professionalità, cercando anche soluzioni che molte volte vengono fatte per la prima volta nel territorio.